Come ritornano gli effetti delle cause mosse? Commento Gli effetti hanno l'intensità vibratoria delle cause che li hanno provocati. La legge è impersonale e quindi è automatica. Spesso i modi con cui gli effetti si applicano sono diversi, ma la loro intensità è sempre rispettata. Succede allora che l'individuo che ha mosso una quantità di cause, ad esempio un dittatore che ha vessato milioni di persone, non possa subire in una sola incarnazione l'equivalente vibratorio di tutte le violenze di cui si è reso responsabile. La legge dunque lo correggerà attraverso molteplici incarnazioni, in ognuna delle quali l'individuo sperimenterà una quota del dolore che ha fatto subire. Dolore che di volta in volta si potrà esprimere attraverso la perdita della sua intera famiglia o attraverso una serie di malattie inabilitanti. L'intensità della causa mossa sarà comunque restituita tale e quale nell'intensità del suo effetto.